ciao a tutti oggi vi presento crocchette e allora abbiamo mezzo chilo di patate lessate e schiacciate 60 grammi di parmigiano che andremo a mettere subito dentro una noce di burro un uovo e un boccino di latte andiamo a impastare il sale ovviamente manchiamiamo tutto tagliamo qualche foglia di basilico l'impasto è pronto abbiamo sbattuto due uova e della mollica ora prendiamo un pochettino di impasto lo schiacciamo mettiamo nel centro un pochettino di formaggio e io ho messo la progola a piacere passiamo nell'uovo poi il pan grattato lo aggiungiamo su un foglio su una teglia con carta da forno e così via con l'altro impasto ecco qua le nostre crocchette ora andiamo a mettere sull'olio appena è bello bollente rituffiamo in un olio e ora stiamo pronti per schiacciare le nostre crocchette un mondo ben caldo se ne sono un bello dorato possiamo tirare su ed ecco le nostre crocchette belle calde e filante spero vi siano piaciute le altre le abbiamo ancora sul fuoco alla prossima ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti